Buona giornata da Eleonore. Oggi vi mostrerò una stesa privata per valutare se un uomo sta tradendo la sua compagna. Ora vedremo se c'è fedeltà tra i due o se invece abbiamo una situazione di infedeltà da parte di lui. Lui dice di desiderarla molto sessualmente anche se adesso logicamente causa coronavirus non ci si può vedere. Già da un mese non si vedono. Quindi mi chiedeva la ragazza se questa situazione migliorerà, come andrà tra loro due, eccetera. Oggi valutiamo la fedeltà di quest'uomo. Ora farò una stesa. Arcani maggiori, solo arcani maggiori in questo caso. Voglio sapere se Claudio è fedele a Rita. Sì. Sì. La stesa attuale mi sta suggerendo che lui è fedele. Ha un lato nascosto, molto pronunciato, che si può vedere appunto nella luna. La papessa rappresenta lei, una donna fedela al suo uomo. Il papa rappresenta lui, appunto al contrario perché in questa situazione i due si sentono un po' così, sono un po' slegati, però il rapporto rimane comunque non fisico, ma un po' rimane. La temperanza dice da avere pazienza, come abbiamo già visto in una stesa precedente, che riguarda appunto la loro relazione. Poi abbiamo l'eremita e ciò dimostra che lui è solo, ha dei vizi, però è solo dei vizi che non sono legati alla lussuria in questo caso, dei vizi di cui mi aveva anche parlato Rita. E qui viene mostrato chiaramente. Sono soddisfatta perché la ragazza era molto in ansia e posso tranquillizzarla e dirle che lui non la tradisce. Ha un lato nascosto molto pronunciato, ma non la tradisce. A presto con un nuovo video.